buonasera buonasera a voi allora prima di parlarvi del titolo di questo video così volevo un attimino raccontarvi che oggi pomeriggio ho avuto modo di leggere alcune considerazioni rispetto alla situazione che si è creata nei vari movimenti di opposizione e anche sui canali youtube ho ascoltato degli interventi da parte di youtuber anche molto molto preparati che descrivevano in maniera dettagliata la situazione i problemi che dovremo affrontare in in autunno e anche quello che sta succedendo per quanto riguarda le polemiche che sono venute fuori a riguardo di Sara Cugnall ma non solo i commenti su Antonio Papalardo alcuni di questi youtuber così si sono mostrati molto diffidenti sia nei confronti dell'uno che dell'altro c'è stata questa diatriba tra Montanari e Sara Cugnall insomma un grandissimo caos che chiaramente come ho detto oggi nel video del pomeriggio non porta sicuramente bene all'opposizione soprattutto a coloro che ritengono che questo governo debba essere abbattuto perché non sarà in grado di far fronte all'emergenza all'ulteriore emergenza soprattutto quella economica che dovremo affrontare nel mese di settembre e ottobre tra l'altro continua questa pressione da parte anche del governo per quanto riguarda il problema sanitario ci sono scienziati virologi che sono assolutamente sicuri che ci sarà un ritorno in autunno mentre altri ritengono e io ritengo che sia molto più corretto di non poterlo dire perché non ci sono realmente gli elementi per poter dire se ci sarà una seconda ondata oppure no e quindi uno ha un po' il sospetto che dietro ci sono degli interessi così da parte del governo di continuare a terrorizzare l'opinione pubblica però tornando un attimino a queste considerazioni che così ho letto sui giornali e seguendo vari interventi su youtube così mi hanno lasciato alcune riflessioni la riflessione maggiore è che tutti continuano a parlare di quello che sta succedendo qualcuno addirittura anche alcune ricette di come noi in primis dovremo cambiare più che ascoltare ad altri e più che credere ad altri che ci possano trovare la soluzione e questo da un certo punto di vista è anche così comprensibile e accettabile sta di fatto che però sta per arrivarci addosso un autentico tsunami e noi dobbiamo trovare perlomeno delle contromisure a meno che diciamo vabbè non ci abbiamo non ci possiamo fare nulla rimaniamo in attesa di quello che succederà non abbiamo le contromisure non abbiamo le armi beh io francamente non ci sto perché io credo e l'ho detto più volte che un tentativo bisogna farlo è chiaro che il tentativo ha qualche possibilità di successo se ognuno da un certo punto di vista fa un passo indietro e capisce che solamente gli obiettivi comuni ci possono far ottenere la vittoria altrimenti è evidente che siamo già perdenti in partenza ma veniamo al titolo di questo di questo video ora negli ultimi giorni avrete letto che la merkel sta facendo grandissima pressione affinché l'italia accetti il messe che tra l'altro qui si continua a dire che ogni stato deve essere libero di decidere ma voi capite che quando una germania fa questo tipo di pressioni nei confronti di un governo di sinistra che ha svenduto alla stessa germania il nostro paese è quasi quasi come se fosse un diktat e questo è la riflessione che io faccio ora però così ho un'idea ora a qualcuno di voi potrà sembrare un'idea folle ma vi assicuro che non lo è è un'idea che io così vi sottopongo con cognizione di causa perché insomma nella vita bene o male mi sono occupato per molti anni di economia e finanza e se noi accettassimo di prenderci il messe i 36 miliardi tranquillamente sappiamo che li possiamo utilizzare solamente per la sanità e già qui tutti quanti quelli che si occupano di sanità sanno che mai riusciremo a spendere 36 miliardi anche perché francamente ci sono degli studi che dimostrano che basterebbero in questo momento nel nostro paese 4 miliardi per sistemare tante cose che riguardano la sanità è inutile creare delle catedrali nel deserto che poi non vengono utilizzate e non sono utili mettiamo a posto le cose che servono e per questo ripeto servono 4 miliardi quindi ne avanzano 32 noi questi 32 miliardi non possiamo utilizzarli per altre cose che sarebbe stato un pochettino più logico no soprattutto perché sono soldi che arrivano subito rispetto a quelli che ha promesso l'unione europea ed è solo una promessa perché deve essere ancora ratificato e basta un paese dell'unione europea dire no e noi quei famosi 80 milioni scusate 80 miliardi di euro non potremo averli a fondo perso perché ripeto basta un paese che dica di no mentre questi sono sicuri questi ci sono immediatamente non il prossimo anno quindi ripeto ce li prendiamo in ogni caso non li possiamo utilizzare ne utilizziamo solamente 3 4 32 miliardi li teniamo lì li teniamo lì per le emergenze perché vedete nel trattato c'è scritto c'è scritto che noi possiamo utilizzare questi 36 miliardi solo per la sanità ma da nessuna parte c'è scritto che un domani se noi avessimo la necessità che ci troviamo in grande difficoltà di restituire una parte del debito noi non possiamo attingere da questi 30 e oltre miliardi che sono fermi questo è quello che secondo me noi dovremo fare e a questo punto fregheremo la signora merkel che probabilmente avrà l'intenzione di mettere in crisi il nostro paese per riuscire a controllare poi appieno l'italia un'italia magari che non fosse in grado di far fronte ai suoi debiti noi ci creiamo un primo cuscinetto che ci dà l'europa a tasso zero di 32 36 miliardi e poi un domani tranquillamente siamo in grado eventualmente di poter attingere a questo pozzetto che ci siamo creati per chiudere un debito questa è l'idea e vi assicuro confrontatevi tranquillamente con economisti sicuramente molto più bravi del sottoscritto ma vedrete che nessuno vi potrà dire che questa è una follia non attuabile con questo vi lascio vi auguro una buona serata e ci vediamo domani